da maledetti toscani di curzio malaparte lo so purtroppo lo so purtroppo anche a noi toscani capita seppur di rado di tradire gli amici forse che in amore l'amante non tradisce più volentieri l'essere amato che il non amato poiché all'uomo piace più tradir gli amici che i nemici essendo il tradimento fatto agli amici più vero di quello fatto ai nemici e poi che gusto c'è a tradire i nemici c'è il caso che in questi scellerati ne provi in piacere tanto forti sono anche in loro come in tutt'uomo il gusto e l'attesa del tradimento se non si sentissero traditi si sentirebbero non solo delusi ma rubati di qualcosa cui avevano diritto e che si aspettavano così fatto è l'uomo che se non gli dai quel che si merita se n'ha per male voglio dire che se non lo tradisci si crede tradito e perciò per dargli quel che si merita per non rubargli nulla per non offenderlo e soprattutto per fargli piacere si galantuomo e tradiscilo se è tuo nemico il piacere è tutto suo se è tuo amico la cosa cambia aspetto il piacere è tutto tuo poiché l'amico non si aspetta e perciò non pretende di essere tradito e se lo tradisci si offende e muore arrabbiato schiumando né si può dargli torto a nessuno piace essere tradito da un amico anche perché ciascuno sa che tradire un amico è il più grande e invidiabile dei piaceri e perciò il primo a invidiarti questo piacere è l'amico che tu tradisci tale essendo la natura umana come si può rimproverare agli uomini quel massimo e invidiatissimo piacere che è tradire gli amici tanto più che a tradire un nemico tutti son buoni non due cose più facile e direi volgare ma per tradire un amico ci vuol grandezza d'animo nobiltà di sentimenti altezza di ingegno e se il tradimento vuole essere perfetto lealtà negheresti forse i toscani anche quando son costretti a tradire gli amici d'essere lealissimi